Sara, sei finita! Ti sto per battere! E adesso che cosa butto? Te l'avevo detto che non mi avresti battuta! Vuoi qualcosa da bere per caso? Senti dai, mi arrendo! E poi mi sto annoiando! Cioè, ho caldo! Beviamo qualcosa, facciamo qualcos'altro! Sai che ti dico? Hai ragione! Anch'io mi sto annoiando! E, beh, davvero te lo porto lo stesso! Però stavo pensando... Hai sentito di quel magnifico parco che hanno appena aperto? Che ne dici, si va? Sì! Andiamo! Sì, va bene, ma aspettami! Iniziamo! Eccoci al parco! Guardi, tu pari! Che cosa? Da cosa iniziamo? Fermi tutti! Sono la guardia del parco! E qualunque cosa succede, sarete arrestati! Se calpestate l'erba, arrestata! Se camminate sui sassi, arrestate! Se toccate la piscina, arrestati! Fino alle tre del pomeriggio non si toccano i giochi! Sennò sarete arrestati! Adesso potete andare lì! Veloci! Ma come? Ma noi siamo venuti apposta per entrare in acqua! E per te, guarda, guarda che bella limpida, l'acqua azzura! Ma come non potevo usare i giochi? Che porcuno! E poi, e poi scusate, ma io devo passare sull'erba per arrivare là! Come facciamo? Come facciamo? Ma è possibile? Sbattiamocene! Carmi, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Comunque, sì, ma che noia! Non possiamo fare niente in questo parco, Sara! Ma che parco è? Ma io non lo so! Ma cosa facciamo? Ma allora ci annoiamo un'altra volta! Forse è il caso di tornare a giocare a carta! Mi sa che so! Beh, Sara, per se è quella, lo so io, eh! Ne abbiamo ancora due, poi andiamo finita di giocare! Ecco, bene, sono già un po' annoiata! Ma, Sara! Ah, che bella giornata! Siamo arrivati finalmente al parco! Cosa possiamo fare? Ah, qui ci sono delle persone! Vediamo se vogliono giocare con noi! Piacere, Barbie Giada! Piacere, Barbie Sofia! Ciao, io sono Simone! Volete giocare con noi? Certo! Sì! Sai! Oddio! Grazie! Sì! Arriviamo! Arriviamo! Ehi, che succede qui? Voglio giocare anch'io! Ah, ah, ah! Sì, sì, certo, puoi giocare! Sì, puoi giocare! Adesso presentiamo tutti i concorrenti! Ovviamente io sono Barbie Giada! Io sono Barbie Sofia! Io sono Simone! Mamma Sara! Mamma Nadia! Vito Catozzo, guardia nel parco! Detto anche papà Dario! Mi hanno voluto! E ci sono! Giro io la bottiglia! Giro io la bottiglia! Giro io la bottiglia! Giro io la bottiglia! Sono uscita io! No, ma io non volevo! Adesso cosa mi toccherà? Devi solo pescare un bigliettino! Chissà cosa ti capiterà! No, vabbè! Vediamo, vediamo, vediamo! Prova di equilibrio portamento! Sfida tutti! Vincerò sicuramente io! Sono così leggiadra! Una modella! Ma che vincerò io? No, forse è contro Barbie impossibile! Allora, ci fai! Oh! Non lo so, io queste cose le facevo quando ero più giovane! Adesso sono grande! Non lo so se ci riesco! Proviamo! Non avevo più paura! Non avevo più paura! Dai, su! Come le modelle! Come le modelle! E uno, due, due! Sara, scusa! Non ti avevo vista! Sei caduta! Ma Nadia! Mi hai fatto perdere! Io ero sicura di vincere! Ah, ma per me è troppo facile! Guardate! Guarda! Posso fare anche con un piede! Guarda! No! No, forse no! Ahia! Oh, poverino! È caduto! Ahah! Vero? Eh, non hai vinto neanche tu! Non ce la faccio! Ma vincerò io, ovviamente! Per Barbie sarà un gioco da ragazzi! Comunque questo lo dovranno fare in rosa! Ecco qua! È stato facilissimo! Le Barbie sono le numero uno! Beh, sì! È proprio carina! Che a me sarà bravissima! Bravissima! Io sono imbattibile in queste cose! Allora... Dunque, iniziamo! Guardate che bravissima! Dov'era la piscina? Che cosa sei facendo? Sara! Nadio! Sara! L'hai fatto perdere! Ma cosa ci facevi lì? Poi la piscina dov'è? È di là! Io ho fatto un duro addestramento! Per me questo è uno scherzo! Guardate! Paletta davanti! L'addestramento era più semplice di questo! Sì, l'addestramento! Si vede! Non è mai fatto! Molto addestrato! Ovviamente abbiamo vinto nelle Barbie, batticinque! La giro io la bottiglia! Siete pronti? Sì, e... Ah, che bello! Tocca a me! Eccoli qua! Fai dieci giri con Lula Hop e sfida una persona! No, no! Io non sono capace! No, 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 no! Io no, 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 no! Ti prego! Scegli me! Scegli me! Io sono bravo! E io ovviamente sono bravissima! L'ho anche sfigato e l'ho la Hop! Io no! Non lo voglio fare! No, no! Sono addestrato per altre cose! Cerco Barbie Giada! Sì, che bello! Premiamogli la Hop! Ok! Iniziamo! Tre, due, uno! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei! Sì! Uno, due, tre, quattro! Vabbè, siamo più piccoli! Uno, due, tre! Focca! Non sappiamo usare Lula Hop ma siamo così carine quindi che se ne frega! La gira io la bottiglia! Tre, due, uno, buccia! Sì, sono uscita io! Che bello! Bigliettino! Ecco questo! Questo! Ah, non è un biglietto! Ehm, questo! Ok! Trasforma i concorrenti maschi in Ken! Non vedevo l'ora! Cosa? No, 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 no! No, 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 no! Noi si sono bellissimi! Ok, tocca a me girare la bottiglia! No, tocca a me! Speriamo di trovare qualcosa di buono! Chi mi fa pescare? Ehm, ecco qui! Ho preso questo! Allora, fai baciare due concorrenti! Mi piace! Mmm, fatemi pensare! Scelgo Barbigiada e... Ken e Simone! Che bello! Devo baciare Ken! Ma io mi vergogno! Ehi, 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 ehi! Tu arrestato! Tu in punizione! Via! Non mi ricapiterà mai più! No, io non vado in punizione! Via, via, via! Oh no, ho perso l'occasione di baciare Barbie! Vabbè, però c'è la Barbie piccola Sofia! Oh, sì! Già da Barbie! Vi tocca tutto! È andato via! Che bello! Tocca a me girare! Oh, sono uscito io! Speriamo bene, dai! Vediamo cosa peschi! Mmm, vediamo proprio! Voglio questo, voglio questo! Chi esce prima dal cerchio perde? Grandi versus piccoli! E che vuol dire? La squadra dei piccoli! Vinceremo noi! Squadra dei grandi! Vinceremo noi! Guarda, ci stiamo benissimo! Guarda, guarda! Oh, oh, oh! Meno male sarà che tu sei magra! E io magrissimo! Ci stiamo! Guarda, i grandi pensano di vincere! Guarda, non ci stanno neanche dentro al cerchio! Oh, 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 oh! Silenzione! Non mi raccogliere! Non mi raccogliere! Ecco, mi avete fatto perdere! Lo sapete, vuoi fare con Sara! Non ricco mai questa tipa! Io non lo so! Sì, io vi ho vinto! Questa volta giro io! Vediamo chi esce! Sono uscito io! Yeah! Palline blu versus rosse Riempi le piscinette Il mio sfidante è Barbigiada! Sì! Ed ecco a voi! Concorrente Barbigiada dovrà pescare le palline Rosse! E il concorrente Ken Simone dovrà pescare le palline Blu! Ok, chi svuoterà per prima queste piscine dalle loro proprie palline Vince! 3, 2, 1, via! Abbiamo una vincitrice! Giro io! Vediamo chi esce! Tocca ancora a me! Chissà che sfida mi tocco! Sara, pesca! Vediamo! L'ultimo disastro che hai combinato! Ma io ne ho combinati già tanti! Ma no, ma che vergogna! Ma devo dire... Che cosa ho combinato? Eh no, Sara! Sei obbligata! Questa è obbligo verità e quindi devi dirlo! Sì, sì! Lo devi dire! Hai voluto giocare! Adesso lo dici! Ma mamma non combina mai niente di male! Non sai quante ne ho viste io combinare la mamma? È un disastro! Ma com'è un disastro? Ma com'è un disastro? Sì, vabbè, forse sono alcuni! Però... Beh, l'ultimo che mi ricordo! È successo proprio qui! Ma doveva rimanere un segreto! Non si è accorto nessuno! Beh, praticamente ho aperto il frigo e ho toccato, non so... E poi è caduto un uovo e... Poi l'ho nascosto sotto il frigo! Ma Sara! Frigo? Sotto al mio frigo! Facciamo l'ultimo giro di ruote che è meglio! Ultimo giro di bottiglia e ultima sfida! Siete pronti? Giro io! Quale sarà la sfida da vincere? Speriamo che non tocchi più me! Giro io la bottiglia! Tre, due, uno... Sono ancora uscita io! Ok, vediamo cosa dobbiamo fare! Ciao! Ecco questo! Trasformati in Barbie sirena e prendi i cerchi dentro la piscina! Ok? Ci siamo trasformati in Barbie sirene! e io adesso vinceremo la challenge! Questi sono i cerchi che dovete pescare nella piscina! E la gara appena inizio! Ok, inizio! Allora, noi farò la mia pistette! Adesso vado a prendere i cerchi! Dai, dai! Ne manca solo uno! Ce la farà Barbie? Secondo te ce la farà Sofia Barbie? Secondo me sì! Secondo me sì! Vincerà questa sfida la nostra Barbie Giada? Ed è l'ultimo! Bravissime! Avete vinto! Allora che ho vinto, che ne dite di tuffarci tutti insieme? Sì! Viva! Amicetti, ecco questo video è finito! Sarà come ti è sembrato il parco acquatico? Vabbè, dai, per certi versi è stato... Beh, però abbiamo incontrato Barbie e... Infatti... Un po' biondoso! Eh sì, è meglio che vi salutiamo! Ci vediamo al prossimo video! Ci vogliono! Mettete un like! E io me ne vado! Ciao! Ciao!